... Mercoledì 3 febbraio, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima dei quotidiani ci occupiamo del caso vaccini con i furbetti del vaccino. Il tema ha tenuto banco ieri in Consiglio regionale. Momenti di forte tensione dopo la bomba lanciata dalla consigliera Ida Romagnolo. Poi il tutto è rientrato in serata con una comunicazione ufficiale dell'ASREM con le parole del DG Florenzano. Non ci sono nell'elenco dei vaccinati consiglieri regionali e assessori regionali. Ma prima del documento sentiamo Valentina Ciarlante. Il caso dei furbetti del vaccino in fuoco al Consiglio regionale accuse, difese e giuramenti in un lungo dibattito che si è concluso con l'ok alla mozione a firma di Facciolla, Fanelli, Calenda, De Gidio e Romagnolo che impegna il presidente Tom a contattare il responsabile ASREM del piano delle somministrazioni in modo da conoscere l'elenco dei vaccinati e capire quindi se all'interno di quella lista figurino presenze abusive o meno, cioè persone che non avevano diritto al siero. Dopo che la consigliera Romagnolo ha sganciato la bomba contro la classe politica in generale, senza fare nomi, ma lasciando intendere di avere ricevuto segnalazioni circostanziate, tante e ferme sono state le reazioni, come quelle di Iorio e Micone, i quali hanno rivelato di essere stati contattati in quanto ex medico e agente di polizia e di aver rifiutato il vaccino, o quella di Patrizia Manzo che ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta. L'intervento più duro è stato sicuramente quello dell'assessore Cavaliere che si è scagliato contro la consigliera di Fratelli d'Italia. Esca chi ha fatto il vaccino oggi, ora, ha del coraggio, tanto se non è ora, tra 48 ore, esce lui, ma se non esce lei, mi spiace, non è che fa una bella figura con il Morisa. A lei non gli interessa, non gli interessa nemmeno a me che sono offeso da dichiarazioni sue. Non gli interessa nemmeno a me che sono offeso da sue differazioni. E non guidare. Voglio guidare, perché questo è un'offesa che in 12 anni, in 15 anni, io non ho mai ricevuto di quest'area. Dica i nomi, lo dica, abbia il coraggio, nessuno ne potrà mai fare nulla. Ma quest'area di sospetto non le consigliere. Consiglieri e assessori hanno raccolto l'invito di Toma, giurando di non essersi sottoposti al vaccino. Ma la stessa azione è che la parola d'onore non basterà chiudere l'antipatica questione. Nodo che ha sciolto il DG Asrem florenzano, il quale durante i successivi lavori dell'unità di crisi ha dichiarato nell'elenco non figurano consiglieri regionali, ma solo qualche sindaco che ne aveva diritto per il lavoro che svolge. Domani mattina ci aspettiamo una comunicazione ufficiale, le parole di Facciolla. È una questione morale, legale e politica. C'è chi può e deve sapere, ma resta in silenzio. Rispetto per i molisani, le parole dei portavoce del Movimento 5 Stelle. Vediamolo il documento che ieri sera il direttore generale dell'Asrem, Florenzano, ha inviato al presidente della regione Donato Toma. Eccolo qui, l'oggetto è esecuzione campagna vaccinale, relazione e poi si sottolinea che dalle verifiche effettuate, pur nella complessità di riscontrare oltre 10.995 somministrazioni ad oggi effettuate, è emerso che non compaiono nominativi di consiglieri o assessori regionali, compaiono i nominativi di 7 sindaci sottoposti a vaccinazione in quanto operatori sanitari. Infine, e in termini più generali, si rappresenta che tutta una serie di informazioni che il direttore generale dell'Asrem, Florenzano, dà al governatore Toma, ma erano informazioni che onestamente già si conoscevano. La sostanza è quella, non ci sono consiglieri o assessori regionali nell'elenco delle persone fin qui vaccinate. Ora il coronavirus, ennesima giornata tragica, 4 decessi e boom di ricoveri con il Cardarelli, le parti Covid del Cardarelli al limite. Ancora Valentina Ciarlatta. Altre quattro persone hanno perso la vita a causa del coronavirus. Due uomini di Termoli e Serra Capriola, rispettivamente di 72 e 68 anni, che erano in terapia intensiva. Una donna, 81 anni, di ripalimosani, ospite della casa di riposo del paese, e un 82enne di rotello che era in malattie infettive. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 276. Drammi a cui si aggiunge la paura per altre nove persone ricoverate in queste ore proprio nel reparto diretto dal dottor Santo Puoli. E ora sono 71 i pazienti Covid dal Cardarelli, con una pressione forte proprio su malattie infettive, che ne ospita 65. Sono aumentati i tamponi processati, 1.065, e da questi test sono risultati altri 78 positivi, ancora tanti a Termoli e a Campomarino, altri 14 e 12 casi, 12 pure a Campobasso, poi 7 a Larino, 6 a Cerce Maggiore. E qui il sindaco ha deciso di chiudere le scuole. Il tasso di positività è al 7,3%. I guariti sono 71, quindi gli attualmente positivi 1.187. In isolamento 1.391 persone. Il coronavirus è l'apertura di primo piano Molise, siamo dunque ai quotidiani, iniziamo dal regionale primo piano Molise, 4 decessi e 78 nuovi accertati. Ospedale al limite ieri 9 ricoveri, continua senza sosta. La scia di ingressi al Cardarelli, 65 pazienti in area medica, 6 in terapia intensiva. Il totale delle vittime sale a 276 processati, 1.065 test molecolari, tasso di positività al 7,3%, 71 i guariti. In taglio centrale c'è il documento inviato a Toma dal direttore generale dell'Aselem Florenzano, dal direttore sanitario Scafarto. Vaccine alla casta, scintille in aula. Toma indaga dagli atti, non risulta Romagnolo accusa, un furbetto ha ricevuto la dose al Santimotio. Il Presidente chiede l'Umi al laser e mi inserata la relazione. Tutto falso. E di spalla c'è il punto del direttore Luca Colella. Dati un anno di ritardi. In taglio alto invece a Termoli l'emergenza. Maggioranza e opposizione sono ai ferri corti. Centro-sinistra avete fatto poco e male. Centro-destra scorretti, mentite sapendo di mentire. A Palazzo d'Aimmo almeno una donna in giunta. Toma va sotto, il Consiglio approva l'indirizzo del Partito Democratico. Il Governatore, una mozione non cambia lo statuto. Ad Agnone di Nucci attacca l'Aselem, sta tentando di tutto per sopprimere il centro tamponi. Come vedete le polemiche non mancano. A Termoli immunizzazione Pfizer consegna 234 fiale di siero al San Timotio. Dovrebbero essere 1.077 dosi. Le ordinanze scuole chiuse questa mattina a Santa Croce, Cerce Maggiore e Montaquila da questa mattina. E poi dentro la notizia dal Parlamento, Federico Buone Notizie per i piccoli comuni, 81.000 euro a quelli fino a 1.000 abitanti. A Termoli notte da incubo sparisce l'auto del comune e diversi tentati, furti, fermati, tre foggiani. In taglio basso c'è lo sport con il campo basso scontro diretto contro il Rieti di Domenico Antonio. A casa nostra non si passa, parla dunque l'attaccante dei russo-blu. Ancora la Serie D, oggi turno infrasettimanale, sfida ad Aprilia per l'Agnonese, il Vasto Girardi al di Tella, invece con l'Alba Longa, senza Mercai. Calcio a 5, ecco l'elenco completo delle gare di recupero. I quotidiani nazionali, iniziamo come sempre dal messaggero, sono tutti cristallizzati ovviamente sulla chiamata al colle di Mario Draghi. Emergenza Italia, la carta Draghi, ecco il messaggero. Mattarella convoca l'ex presidente della BCE, il capo dello Stato sceglie la strada del governo tecnico, non ci sono le condizioni per il voto, fallite le trattative per il Conte Ter, Renzi esulta, il Movimento 5 Stelle si spacca, diviso anche il centro-destra. Il colle ora, ore difficili, serve un alto profilo. Queste le parole di Mattarella nel suo discorso di ieri. Poi, Carlo Nordio di Spalla, le mancanze della politica e la pelle degli elettori, la notizia che in carenza di vaccini alcune regioni intenderebbero procedere ad acquisti separati attraverso trattativi autonomi con le aziende produttrici, dimostra lo stato di confusione cui siamo arrivati per la superficialità e l'inavvedutezza che hanno contrassegnato sia l'Unione Europea sia il nostro governo nell'affrontare la nuova pestilenza, questo l'incipit del pezzo di Nordio. E poi Roma si ha a priorità del nuovo esecutivo, l'appello della sindaca Raggi, la sindaca al messaggero per i 150 anni della capitale, occorrono fondi e poteri. Il Corriere della Sera, governo il Colle, chiama Draghi le scelte sulla crisi, fallito il tentativo di un Conte Terra Mattarella appello alle forze politiche perché votino un esecutivo di alto profilo. Cosa serve al Paese? Massimo Franco, la candidatura di Mario Draghi come risposta al fallimento della coalizione tra il Movimento 5 Stelle, PD e Italia Viva è una deriva elettorale ad alto rischio e è anche l'antidoto più potente che il capo dello Stato Sergio Mattarella potesse scegliere questo l'incipit del suo pezzo. In taglio centrale c'è questa foto con Mattarella che stringe la mano a Mario Draghi ex governatore della BCE convocato al Colle questa mattina. C'è la vigneta di Giannelli con Draghi che dice al Presidente si ricordi sono Draghi non Mandrake e poi il ritratto dai gesuiti alla BCE il salvatore dell'euro. i partiti sono sorpresi dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia divisioni e aperture molte divisioni interne soprattutto nel Movimento 5 Stelle. Poi c'è l'intervista a Salvini ci dica lui che vuole fare e decideremo. La Repubblica, l'ora di Draghi la svolta del Quirinale Fico conclude il suo mandato senza una maggioranza politica il capo dello Stato esclude il voto e affida il governo all'ex banchiere Forza Italia valuta il sostegno Grillini e Lega si spaccano la Repubblica che riporta una parte del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo non identificato in alcuna formula politica e che faccia fronte con tempestività a gravi emergenze non rinviabili questa è la parte centrale del discorso di Mattarella l'editoriale di Maurizio Molinari la posta in gioco molto duro Molinari davanti all'implosione della maggioranza e dal fallimento dei partiti nel far fronte all'emergenza nazionale innescata dalla pandemia del Covid-19 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella indica la strada di un governo istituzionale vede in Mario Draghi il premier europeo di cui l'Italia ha bisogno per risollevarsi un momento drammatico e dal tempo stesso di speranza per il nostro paese questo scrive Maurizio Molinari ovviamente poi il pezzo continua nelle pagine interne il protagonista la missione di Super Mario dalla BCE a Palazzo Chigi i duellanti Renzi affonda il premier che pensa a un suo partito il fatto quotidiano Renzi ci regala la mucchiata arriva Draghi Mattarella convoca l'ex capo della BCE fa esplodere tutto ovviamente Renzi Italia Viva alza il tiro su giustizia affari e poltrone per far saltare Conte il Colle gliela dà vinta nega il voto sempre evocato e chiede il governissimo che era pronto già da tempo questo sottolinea il sole il fatto quotidiano invece il sole 24 ore eccola qui l'apertura Mattarella convoca Draghi un governo di alto profilo utilizza dunque le parole del capo dello Stato e poi in taglio centrale c'è la manifattura argina la caduta del PIL l'Istat a fine 2020 crescita giù dell'8,8% leggermente meglio delle previsioni nonostante il lockdown l'industria ha tenuto con export e innovazioni chiudiamo con la gazzetta dello sport che rivincita con in primo piano la gioia di Cristiano Ronaldo che rifila una doppietta all'Inter Coppa Italia la Juve sbanca San Siro 2 a 1 all'Inter e vede la finale un gol sul rigore ingenuità di Young su quadrado e uno dopo un pasticcio Bastoni Andanovic così Ronaldo rimonta Lautaro e vendica il K.O. in campionato Cristiano e Vidal sostituiti si arrabbiano Conte il progetto del club fermo ad agosto martedì la gara martedì prossimo la gara di ritorno poi benzina Manzucicci il Milan fa il pieno e ancora la compagna di Astori dice voglio la verità la morte del calciatore domani l'udienza bene davvero tutto il palinsesto cosa troverete oggi sulla nostra rete lo vediamo insieme alle 11 c'è insieme in salute un convegno telematico organizzato dal Gemelli Molise che andrà in replica anche alle 16 alle 14 l'informazione con la collega Rita Iacobucci 17.30 camminando Molise 19.30 Valentina Ciarlanti alle 21 viva la musica con Gigione alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario bene davvero tutto grazie per averci scelto buona giornata arrivederci grazie a tutti